ciao a tutti lei vuole un ritorno con me chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda segue il video nel frattempo iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscritto al nuovo canale felicità benessere di più di posto in descrizione mescoliamo le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali la carta 1 la carta 2 la carta 3 e la carta 4 concentrati concentrati su questa lei della quale vuoi sapere se volo ritorno con te dopo di che scegli la carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 perché ho scelto la carta 1 ma diciamo che se ti dimostrerai più stabile anche materialmente può volere un rapporto con te un ritorno con te che ha scelto la carta 2 diciamo che ha la testa tra le nuvole per cui sei l'ultimo dei suoi pensieri che ha scelto la carta 3 beh riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi sei determinato per cui ci sarà una vittoria e un ritorno che scelto la carta 4 sicuramente vuole un ritorno con te però consolidati in una relazione stabile finalizzata a crearsi una famiglia per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale iscriviti al nuovo canale felicità benessere di qui ti posto il link in descrizione ciao a tutti